ciao oggi siccome mi devo rasare la testa e non ho voglia di usare la metta ho comprato un prodotto un rasoio elettrico questo molto leggero le lamine lamine in oro con una carica fa 80 minuti il suo spazzolino per pulirlo ma c'è il pulsante per dirlo lamine le lame rotanti ed ora andiamo a provarlo non è tanto rumoroso ed è molto leggero questo lo usano i barber per fare raso raso free tipo taglio di capelli prova molto bene anche a rasare la testa ti fa tipo effetto lametta proviamo wow non so se si vede ma è proprio rosato tipo lametta vediamo vuol dire che proprio uguale la lametta dove ho passato molto comodo veloce pratico alla prossima ciao bad and bad vediamo 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 Grazie.